Oh ma qui posso prendere in piedi? Allora ci stai, no, ci stai anche a seduto Andare eagliottititititititititi Grazie. Ehi, c'è fermato. Ehi, c'è fermato. Se cramparà sa vizieta, o? Ma è necessario? Ehi, un arcochetto. Ehi, un arcochetto. Stai facendo la brava. Stai facendo la brava. Stai facendo la brava. Stai facendo la brava. Grazie a tutti Grazie a tutti.